Oggi ragazzi siamo trovati nel primo Fortnite News della settimana Ovviamente vi ricordo che tutto quello che succede nei Fortnite News non è detto che accada Sono cose che sono straprobabili appunto che accadano Infatti già quello che avevamo detto l'altra volta è successo Ovvero l'isola è andata a lande letali Comunque oggi abbiamo trovato veramente una cosa fantastica all'interno del gioco Un messaggio segreto nascosto dell'Epic che tramite uno spettrogramma è stato decifrato Io non ci potevo credere Poi vediamo un attimino la vostra lezione appena scoprirete che cavolo è Io ragazzi vi ricordo per la prima volta di seguirmi su Instagram Questo è il mio tag di Instagram Posterò un botto di roba interessante E soprattutto raga spesso posterò nelle storie Altri segreti che troverò all'interno del gioco solo su Instagram Mi raccomando seguitemi appunto a questo tag Dato questo condividete con tutti i vostri amici per farvi vedere questo messaggio fantastico Arriviamo anche oggi se riusciamo alle 1000 condivisioni E l'obiettivo di oggi sono i 10.000 likes Vediamo se riusciamo ad arrivarci Ovviamente se ancora non siete iscritti raga la prima cosa che dovete fare è iscrivervi e attivare la campanellina Così non vi perderete tutte le prossime notizie E sarete sempre più aggiornati dei vostri amici Dato questo direi di andare in game Ah eccoci qua raga finalmente la skin appunto calamity versione 3 La fase 3 della skin calamity Anzi non so se è la fase 2 o fase 3 Non mi ricordo come si chiama perché l'epic Esatto sbalza sempre tutto La fase base fase 1 e fase 2 Comunque raga oggi usiamo una skin che non usiamo da un botto di tempo Usiamo la skin valchina che è una figata improponibile Il piccone raga ovviamente uso questo perché mi piace troppo L'ho sciopato per questo A proposito della skin calamity Questi sono i livelli a cui è possibile sbloccare i vari fasi appunto di questa skin Le ho presi da Fortnite League su un canale di Telegram E quindi se avete sciopato post battaglia questo vi sarà utilissimo Oltretutto nuova cosa di cui dobbiamo parlare Siamo andati in parco giochi ma stranamente Non è ancora uscita la modalità quella lì delle discoteche Vi ricordate che l'epic ci aveva annunciato questa nuova modalità appunto In cui dovevamo tipo rifugiarci delle discoteche Proteggere delle discoteche o una cosa del genere Questa modalità non è mai uscita E dall'aggiornamento 6.0.1 qualcosa del genere La news è stata rimossa dal gioco Bah raga secondo me la epic trolla Cioè non c'è altra spiegazione Comunque raga andiamo all'isola che è andata effettivamente Come avevamo già previsto a land delle tali L'altra volta quando ne ho parlato eravamo qua a Boschetto Bisunto E ha fatto tutto il tragitto fino a land delle tali Tragitto raga che dovrebbe durare o fino all'8 fino al 9 ottobre Comunque una cosa del genere E poi da qui si rimuoverà un'altra volta E dovrebbe andare raga secondo appunto le mie teorie O in questa luna qui o in questa luna qui Non penso che faccia un altro giro strano anche perché non avrebbe senso E uno di voi raga mi ha detto una teoria molto interessante Ovvero l'isola potrebbe passare per palmetto paradisiaco E dato che qua c'è un vortice Questo vortice qui raga Questo vortice potrebbe trasformarsi in un vortice di sabbia Passando appunto per palmetto L'idea ci sta L'idea ci sta un casino Tra poco raga arriviamo al messaggio segreto Che appunto è stato trovato nel gioco Ma intanto parliamo della nuova skin Del bombarodo lucente Ovvero bombarodo oscuro Che cosa è successo a questa skin Bene raga per chi ha questa skin e la utilizza insieme al piccone Avrà notato che se fate più di 3 kill All'interno di una singola partita raga La punta del piccone inizia ad accendersi A illuminarsi tipo a infocarsi Una cosa di questo tipo E la cosa è molto interessante raga Perché potrebbe dimostrare Anzi sicuramente dimostra Che le fiamme si stanno alimentando O una cosa di questo tipo raga Che l'oscurità sta avanzando Infatti nello scorso video avevo appunto parlato di questo messaggio Nella quale appunto era stata annunciata la skin E se noi guardiamo questo posto Si vede che in mezzo raga c'è una specie di maggiore Ovvero l'oscurità domina sul mondo di Fornets Su quello che è già il mondo di Fornets Sulla luce dai insomma avete capito Non è questo messaggio segreto Adesso ci arriviamo Oltretutto raga il canale Fornett Italy di Telegram Ha postato questa immagine Nella quale si vede che c'è praticamente La skin enforcer ovvero la skin road trip La skin road trip della stagione 5 Che è praticamente qua sulla spalla Una specie di segno Un simbolo Questo simbolo raga Se noi andiamo nel bunker di Bosco Braterante Il bunker qua giù che si è creato Appunto in questa nuova stagione Il nuovo bunker insomma Vediamo che in questa sedia C'è lo stesso del dico cuscino Con lo stesso identico simbolo Riprendendo un pochettino la storyline Ovvero la storia La trama di Fornets È possibile che Gli enforcer ovvero la skin Questa skin qui di road trip Stia usando il bunker Per studiare le fessure Per poi intracciare il visitatore Il visitatore raga È la skin che ha dato inizio a tutto questo La skin che ha fatto partire il razzo La skin che ha creato la crepa Nel cielo Che ha creato alla fine il cubo Che ha creato l'isola Che si sta muovendo per tutta la mappa Se facciamo impazzire i giocatori Si capisce che cacchio succede Eminem chi Comunque a voi che cosa ne pensate di questo raga Secondo me la trama è veramente Molto molto buona Ecco che cosa succede Quando provo ad imitare Eminem 97 battiti al minuto Il mio cuore sta impazzendo Ok raga Finalmente parliamo di questo Maledetto messaggio segreto Allora In che cosa consiste raga Avete presente le pietre d'ombra Aggiunte nella stagione 6 Appunto di Fortnite Queste pietre che se noi le consumiamo Ci fanno diventare invisibili Ci fanno muovere dentro gli oggetti raga Queste qui Ci fanno entrare dentro Perfetto Come vedete appunto sono nella pietra La cosa è fantastica Possiamo entrare all'interno degli alberi Possiamo entrare all'interno di un sacco di cose Tranne il bunker Perché il bunker raga È protetto dalla magia nera Si fanno volare tantissimo Se noi andiamo su una gioppa E usiamo sta roba raga Vogliamo che Gesù Cristo ci guarda dal basso E queste pietre d'ombra raga Contengono un messaggio segreto In realtà contengono un'aura di mistero Perché non si sa che cavolo sono usciti a fare Non si sa per quale motivo In questa season 6 raga Sono uscite queste pietre d'ombra Così strane Così diverse appunto Da quello che esce normalmente in Fortnite Se noi analizziamo lo spettrogramma Del suono appunto Che fanno queste pietre Sentite bene questo audio qui Questo suono qui esatto Se noi analizziamo il suo spettrogramma Ovvero l'immagine grafica Che rappresenta il suono Possiamo ottenere questo E questo raga È il vero mistero di oggi Secondo voi Cosa è questa roba? Che cosa rappresenta? Evidentemente raga Ci si può arrivare Componendo le immagini È una torre E questa torre In cima ha un orologio L'unica parte della mappa Che ha una torre con l'orologio È esattamente Pinnacoli pendenti Alla Trump Tower Questo è esattamente come Quando Vi ricordate quando è sparito Il Burger King Il simbolo del Burger King Qua a Boschetto Bisunto Ecco praticamente raga Quando è sparito questo simbolo Ed è stato ritrovato in California Tutto con il biglietto dentro Nella quale se noi chiamavamo questo numero Si sentiva un suono Perché raga Dentro questo Burger King fisico Che era stato costruito in California In America Si poteva trovare un biglietto Con un numero di telefono Se noi chiamavamo questo numero di telefono E costruiamo lo spettrogramma dell'audio Che sentivamo da questa chiamata Dentro questo spettrogramma Erano presenti delle coordinate E le coordinate corrispondevano esattamente All'oggetto che era stato rimosso Ovvero coordinate C7 Queste coordinate raga Che corrispondono appunto Al ristorante di Boschetto L'Epic sta sicuramente Certamente raga Facendo la stessa indica cosa Con la Trump Tower Allora raga A voi le conclusioni riguardo questo Io sinceramente penso Che la Trump Tower Dato che è stata già modificata Vi ricordate quando appunto Vi parlavo del fatto che le lancette Si muovessero più velocemente Nella season 5 Hanno ripreso Muoversi E tutto quello che era successo appunto A questa Trump Tower Secondo me l'Epic Ha intenzione di modificarla O comunque ha intenzione Di fare qualcosa Correlato a questo evento Sicuramente raga Io ne sono quasi convinto Questa è una mia teoria Quindi mi raccomando Non prendetela per orcolato Però io sono convinto Del fatto che sicuramente In futuro queste qui serviranno A una specie di timer Una timer che ci darà la data Per un evento E probabilmente questo evento Sarà correlato con l'isola L'Epic non fa mai cose a caso Si ogni tanto aggiungere al gioco Cose inutili Però non a caso Su Instagram raga Nei direct Tantissimi di voi Mi hanno scritto Che dentro l'isola Il cubo Ha fatto esattamente Quello che appunto Avevo detto nello scorso video Ovvero nel secondo piano Si è espanso Dove avevo detto Appunto dove c'era Quella specie di aura Quella roba Che il cubo aveva lasciato Si è espanso ancora di più Andiamo a vedere fino a che punto è arrivato Ok eccoci qua Oddio raga Avevate ragione Questa è creata Una specie di altro livello Questa è la tana del disordine Che cacchio sta succedendo Qua dentro Esatto raga È quello che avevo detto Il cubo si è espanso esattamente In questo punto Appunto dove avevo detto io E avevo ragione Anche qui dentro raga In realtà si sta appunto Espanendo E ora in teoria Manca la soffitta Comunque il semitetto Cacchio si chiama In cui ancora Il cubo non è arrivato E poi raga Avrà effettivamente Conquistato tutti i piani Ora l'obiettivo Sarà quello di A mio parere Distruggere completamente la casa E creare tipo una specie di Mega cubo gigante Qualcosa del genere Va a capire l'Epic In questo momento Ha parlato di un nuovo evento Che potrebbe verificarsi Nel gioco Attenzione raga Questa qui è solo una teoria Sentite un attimo Che cosa ha detto Allora considerando Tutti gli orari rituali L'evento Che appunto dovrebbe presentarsi Collegato all'isola Dovrà essere il 21 ottobre Esattamente tre giorni prima Del mio compleanno raga Perché il mio compleanno È il 24 ottobre In cosa consisterà l'evento Andiamo con ordine Quando l'isola va su le lune Si ferma a 48 ore Dopo queste Si creano case Tema Halloween In giro Per la mappa Ed è vero raga Infatti dopo andiamo a vedere Un attimo che cosa Si è creato di nuovo Le città su Fortnite Mano a mano diventeranno Sempre più a tema Halloween Fino al 21 ottobre Data plausibile Per l'inizio del Fortnite Mers Raga Cosa è Fortnite Mers Fortnite Mers è un evento Appunto che era stato annunciato Direttamente l'anno scorso All'interno del gioco Nella quale sono entrate Appunto nuove skin Nello shop di Halloween Per esempio Lo Skull Trooper E il Ghoul Trooper Questo evento raga È un evento che dura Un po' di giorni Ed è praticamente L'evento di Halloween Probabilmente verrà annunciato Il 21 raga Di questo mese Appunto l'evento ufficiale Di Halloween Di Fortnite I cube all'interno della casa Finiranno con distruggerla Non sappiamo bene Che cosa succederà poi Ma intanto La mappa sarà totalmente Al tema Halloween Secondo me sarà una figata Raga Quest'evento Fortnite Mers Comunque raga Ho parlato prima Di nuove decorazioni di Halloween Ed effettivamente Sono già arrivate Nuove decorazioni All'interno del gioco Una di queste appunto A Palmetto Paradisi E con un nuovo negozio Appunto a tema Halloween A passatempo un po' Si è arrivato qualcos'altro Se non sbaglio Quindi in generale Nelle città della stagione 5 Questo raga È appunto Il nuovo shop a tema Halloween Direttamente qua A Palmetto Paradisi Ecco Un nuovo Battle Bus Raga Anzi due Nuovi Battle Bus In miniatura In fondo della città Uno è qua E uno è qua Eccolo là E spulta la testa E praticamente raga La stessa cosa di prima Però solo a tema Halloween Con questi Cosi qua Che hanno messo qua con sopra E un altro paio di decorazioni E sti Battle Bus In miniatura Che sinceramente Ancora non ho capito Che cacchio servano E che cosa c'entrino con Halloween Però va bene Invece raga A Palmetto Che è completamente Dall'altra parte Della mappa Fantastico Cosa cavolo È successo Allora In Fornet È molto facile morire Peccato che Quando sono in parco giochi Non muoio mai È cambiato questo Questo negoziato Qua raga Che figata Sti ragni Raga ma sono bellissimi Cosa cacchio Dovrebbe essere Sta roba Fa anche un suono C'è qua il problema Vabbè qua raga La Megaville È cambiato Ovviamente Uh ma che figo è questo Aspetta 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 Cos'è Bellissimo Ma hanno messo davvero Anche la macchina del fumo Raga A fare gli effetti Vabbè Troppo bello Troppo bello Bisogna mettere che L'epicontento Fa delle cose fantastiche E raga Hanno giunto Un altro Battle Pass Finto Anche qua Ma che figo Oh in ogni città Sti cacchi di Battle Pass Sono onnipresenti Comunque vi ringrazio Tantissimo Per aver visto il video Fino a questo punto Vi ricordo di condividerlo Con tutti i vostri amici Un bel like raga E iscriviti al canale Se appunto ancora non l'avete fatto Attivando la campanellina Delle notifiche Molto importante Dato questo Fatemi sapere che cosa ne pensate Di tutto Qua è stato nei commenti E noi ci vediamo raga Ad un prossimo video Ciao 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 Ciao